Il big match di giornata di seconda categoria era quello che poneva di fronte il Caorso e la capolista corte calcio. I padroni di casa firmano l'impresa della domenica superando l'undici di di donna al termine di una sfida vibrante che parte in via immediata con lo squillo ospite. Pellini approfitta dell'incredibile libertà concessa e porta avanti i suoi dopo il cross al bacio di Facchini. Il Caorso cresce con il trascorrere dei minuti ma fatica a creare occasioni degne di nota. I ragazzi di Castellani reclamano un calcio di rigore ma l'arbitro colla lascia proseguire. Decisione che pare corretta. Salvatore ci prova da fermo ma Figoni è attento. Secondo tempo e il corte va ad un passo dalla raddoppio. È piana a salvare i padroni di casa dalla capitolazione sul tentativo di Facchini ben imbeccato da De Marchi. Ancora lui Facchini spreca tu per tu con il portiere di casa. Il corte spinge ma nel finale torna vehemente la spinta Caorsana. Al 69esimo ci prova Covelli che non inquadra il bersaglio ma al 73esimo è col pari. Salvatore inventa, Favari non sbaglia con il mancino ed è uno a uno. I padroni di casa ci credono e come e all'83esimo Gariglia parecchia la tavola in piena area. Salvatore irrompe ed è sorpasso. Nel finale è arrembaggio bianco-rosso ma il gol del pari ancora firma Pellini arriva a gioco fermo con l'arbitro colla attorniato dai giocatori magistrini imbufaliti. Nonostante la caduta Primato salvo ma Caorso ha soli tre punti dalla battistrada con una gara in meno disputata.